FINGERBOARD STORE Basta vabbè in inglese, mi sono già stancata Dunque qui c'è dentro la roba di vendita e la roba per il contest, festivity, tricks Perché se ancora non lo sapete si terrà anche quest'anno E lo facciamo sempre insieme ai ragazzi della Brugola Skate Team Con il park da skate Che quest'anno non ci sarà la mini ma ci sarà un bank o due bank Vabbè comunque 8 metri quadrati di park Prima apro e poi parlo perché se no non capisco niente Faccio prima a far così Per l'appunto cosa volevo dirvi Allora Già alcuni bel contest hanno mandato il materiale No miseria è tutto fitto fin in fondo So anch'io che non si apre La Black River come sempre sponsorizza e arriverà entro fine settimana Vi faccio vedere che sono arrivate già le pop decks Tre pop decks Non vi faccio vedere come sono vatti Vi faccio vedere che ci sono tre pop decks Orca miseria Allora Qui c'è la carta Probabilmente ho fatto gentilmente da Black River E per la vendita abbiamo 1, 2, 3, 4 E allora 5, 6 7 8 9 10 Non mi ricordo più se dove hanno chiesto 10 o 20 Comunque 10 ci sono sicuramente 10 o rings soft 10 o rings hard Allora se qui c'è solo la roba di vendita Sono Altre 10 FBS tape Quindi totale 20 10 o rings medium 10 o rings soft Adesivi fingerboard store Ancora adesivi fingerboard store L'unboxing è finito Quindi mi aspetto un altro pacco da fingerboard store E lo saprete ovviamente Sulla mia pagina di facebook Su Non so youtube Probabilmente Perché metterò della roba anche là Per quanto riguarda il contest Questa mattina devo sapere la location precisa Quindi seguite l'evento su facebook Così saprete esattamente la location precisa Dov'è Non so cos'altro dirvi a riguardo Se non portate anche lo skate Perché potrete anche skateare Chi di voi skate Vi saluto Vi do appuntamento al prossimo unboxing Che sarà tra breve Perché devo ordinare dall'altra roba Bye bye